Il tabagismo, le sue lusinghe e i danni che esso provoca con un focus sul benessere femminile. Ieri pomeriggio l'associazione FIDAPA Distretto Sardegna ha organizzato nella sala donata Marchia Nuoro una conferenza orientata alla sensibilizzazione dei rischi per la salute legati al fumo. Dopo i saluti della presidente FIDAPA Nuoro, Caterina Cossedu, si sono succedute al microfono alcune dottoresse dell'ospedale San Francesco di Nuoro per apportare il loro contributo divulgativo. Primi destinatari rappresentanti della fascia di popolazione più influenzabile, gli adolescenti, in questo caso provenienti dal liceo scientifico Fermi di Nuoro. Un problema sociale però non visto tanto come problema sociale, quindi bisogna un attimino creare quella consapevolezza che i comportamenti che adottiamo nella nostra vita, da giovani ma anche da adulti, possono poi mettere a rischio la nostra salute. E quindi lo scopo è proprio creare consapevolezza. Grazie alle moderne metodiche, dall'attacca alla risonanza all'angiografia che sono possesso del medico radiologo, riusciamo a vedere la malattia quando ancora non è visibile e trasformarla in una malattia visibile. Presente al convegno con la sua testimonianza anche la direttrice del servizio dipendenze dell'ASL di Nuoro, Rosalba Cicalò. Il tabagismo è una dipendenza, è non azzardo a dire che è una dipendenza fortissima, forse una delle più prepotenti, che si insinuano nel cervello degli adolescenti in maniera veramente esorbitante. In qualche modo apprendo anche un varco alle altre sostanze. Un pomeriggio che ha visto anche la partecipazione attiva del pubblico, che ha avuto la possibilità di intervenire per chiarimenti e curiosità. Sono molto soddisfatta dell'evento per la partecipazione che abbiamo avuto da parte dei ragazzi, sono veramente numerosi e soprattutto mi ha colpito il tipo di domande che i ragazzi stanno facendo sui danni da fumo. Quindi io penso che da parte nostra è necessario continuare con i percorsi formativi, perché in fondo solo la conoscenza e il sapere può veramente aiutare questi ragazzi nella prevenzione.